Inizia un nuovo anno, ancora con i problemi della pandemia, con sicuramente qualche certezza in più rispetto al passato. Il vaccino è sicuramente una cosa importante che ci potrà garantire una maggiore possibilità di fare il nostro lavoro in presenza. Per ora io registro una situazione rispetto al Green Pass alquanto positiva. I docenti sono tutti vaccinati e tutti attrezzati con un attestato di poter lavorare in presenza. Le criticità restano relativamente alla quantità delle persone che dobbiamo inserire in una struttura pubblica e costretta, quali sono le scuole. La mascherina va messa, va portata in ogni caso e soprattutto bisogna capire che cosa succederà con i ragazzi. Per ora è difficile immaginare quanti di loro saranno vaccinati, quanti non lo sono, lo capiremo. La situazione non è serena, non è positiva, ma sicuramente, ripeto, è migliore dello scorso anno. Ritengo che dovrebbero essere obbligatori, così come il vaccino, a tutela di noi tutti. Non sarebbe giusto creare questa discrepanza. In realtà del vaccino tutti abbiamo paura, nessuno escluso. Però in questa paura, se vogliamo continuare ad usare questa espressione che proprio adeguata non è, se proprio dobbiamo dirlo, è fra le due paure, quella di contagiarsi e avere problemi e conseguenze e chi l'ha avuto lo sa bene che cosa può passare, è il caso forse di pensare al vaccino. Sarebbe opportuno che prima di pensare alla terza dose, per chi già ne ha fatti due, sarebbe opportuno accertarsi, assicurarsi di garantire questa obbligatorietà affinché poi il sacrificio di chi arriva alla terza dose, che viaggia sempre con la stessa paura di chi non ne ha fatto neanche uno, si possa trovare un equilibrio. Non penso sia opportuno avere molti vaccinati in tutte e tre le fasi, perché mi pare che ormai se ne parli e avere ancora chi teme di fare la prima dose. Forse la questione di equilibrio tra queste divergenze sarebbe opportuna. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, è una scelta che non si fa solo per sé, è una scelta che si fa per la comunità tutta. Al momento non abbiamo scelta, quindi è una scelta, ripeto la parola scelta, in funzione della riduzione del danno, del pericolo per l'intera collettività. Quindi si dovrebbe lavorare su questo, aiutare chi non riesce a fare una scelta, obbligare laddove necessario, perché non è possibile perpetuare. Cioè un grande gruppo che arriva alla terza è un gruppo che comunque è presente ovunque, in realtà lavorative come la scuola, l'ospedale, gli enti pubblici, la gente sta insieme tante ore e quindi è necessario arrivare a una scelta che possa essere garanzia per tutti e per ciascuno. Altrimenti da questa idea dell'avere paura che tutti ce l'hanno, anche qui poi c'è una discrepanza forte, quindi la paura va superata perché non abbiamo scelta e non è giusto scegliere di non farlo perché si danneggia in ogni caso chi lo ha fatto. Niente, il protocollo sicurezza, in realtà alla fine abbiamo capito che tutti dobbiamo tenere la mascherina, anche i fragili devono lavorare in presenza, quelli che prima erano fragili ora non lo sono più perché vaccinati, quindi tutti in presenza con le mascherine. Bisogna capire meglio questa organizzazione pratica, il docente deve essere distante due metri dalla scolaresca, dai ragazzi praticamente, tra loro invece se non c'è possibilità di mantenere un metro di distanza bisogna comunque tenerli insieme con questa mascherina. Questa sorta di delega al buonsenso, a chi nelle scuole deve preoccuparsi di ciò, i dirigenti e l'ingegnere alla sicurezza, i referenti covid, il medico competente, cioè qua c'è un insieme di persone che stanno lavorando, stiamo lavorando per garantire il meglio. Questo meglio noi cerchiamo di garantirlo all'interno della scuola, come dire, nel limite delle nostre possibilità, con gli ambienti che abbiamo, con gli ambienti che ricaviamo, con gli spazi che riusciamo a ottenere, che non è certamente una passeggiata, però poi resta il problema del trasporto. Il problema del trasporto è abbastanza complesso da gestire, molta attenzione anche per questo problema, quello che riguarda il trasporto. La divisione dell'orario nelle fasce di ingresso, di entrate e di uscita è una parziale soluzione, sappiamo bene che non lo è.